Ciao a tutti i ragazzi e i miei follower e le persone che hanno trovato questo video per caso per imparare insieme i testi delle canzoni e capire le retroscene dei cantanti che hanno portato a scrivere questi importantissimi testi. Quindi benvenuti sul canale di traduzione delle canzoni in musica spiegata. Oggi andiamo a parlare di un testo rock, finalmente parliamo un po' di rock, un po' di metal ragazzi perché qua altrimenti non se ne esce fuori con questa musica troppo pop. Oggi andiamo a parlare di uno dei testi, delle canzoni rock per eccellenza che si intitola Smells Like Ten Spirit di Nirvana ragazzi. Niente proprio di meno che Nirvana con una canzone che è uscita il 10 settembre del 91. Appunto la canzone fu battezzata l'inno dei ragazzi apatici della generazione X. Nonostante i membri del gruppo si mostrassero a disagio con il successo e le attenzioni che ricevettero da parte del pubblico, è una delle canzoni più importanti della storia del rock appunto. Andiamo un attimo appunto a parlarne. Cobain trassi ispirazione per il titolo durante una notte dedicata all'alcol e al vandalismo in compagnia della sua amica, Lucchi e cantante principale della Bikini Kill, Kathleen Hanna, che tracciò sul muro della casa di Cobain con la carnice spray la scritta Kurt Smells Like Ten Spirit con l'intento di ridicolizzarlo. Ma cosa vuol dire Smells Like Ten Spirit? Vuol dire profumi o puzzi come un profumo da teenager, un profumo adolescenziale. Infatti si riferiva a un deodorante per adolescenti molto in voga all'epoca, il Ten Spirit, che anche l'ex ragazzo utilizzava. In sintesi il testo esprime la rabbia verso un mondo dominato dall'avidità degli affaristi, ma anche verso l'incapacità di una generazione di costruire un'alternativa praticabile. È una canzone all'impossibilità di mettere in atto una rivoluzione giovanile. In un mondo ossessionato dal successo, scegliere la sconfitta era rivoluzionario. I ragazzi, come Kurt, nati sul finire degli anni Sessanta, non avevano vissuto l'esperienza di una guerra mondiale, non avevano combattuto in Vietnam e quindi nell'America della guerra fedda e della repressione culturale, il divorzio, la solitudine, la disoccupazione e l'alienazione erano nel loro Vietnam. Quindi si va a sostituire la guerra con la solitudine e quindi tutto ciò che ne consegue la solitudine e depressione, parliamo, quindi in una parola depressione. Ma andiamo un attimo a tradurre il testo, che significa appunto odori di spirito adolescenziale, di profumo adolescenziale. Inizio dicendo, load up on guns, bring your friends. Quindi, load significa caricare, quindi caricate le pistole e portate i vostri amici. It's fun to lose and to pretend. È divertente perdere e fingere. She's over bored and self-assured. Allora, bored significa annoiare. To assure significa assicurare, promettere. Self-assured vuol dire sicuro di sé. Quindi, lei è troppo annoiata e sicura di sé. Oh no, I know a dirty word. Io conosco una parolaccia, una brutta parola, una parola sporca. Hello, how low? Quindi, ciao, quanto giù? Quanto basso? With the lights out, it's less dangerous. Con le luci spente, è meno pericoloso. Here we are now. Entertain us. To entertain vuol dire divertire, intrattenere. Quindi, eccoci qua, ora ci possiamo intrattenere. Fateci divertire, ci divertiamo. I feel stupid and contagious. Mi sento stupido e contagioso. È mulatto, ammalato, an albino, a mosquito, ma libido. Quindi, un mulatto, un albino, una zanzara e la mia libidine. E diniel, un diniego. I'm worse at what I do best. Sono peggio in quello che sto fare meglio. And for this gift, I feel blessed. E per questo regalo, io mi sento benedetto. Our little group has always been. Il nostro piccolo gruppo è sempre stato. And always will until the end. E sarà sempre fino alla fine. And I forget just why I taste. È solo dimentico perché io, perché ho gusto. Oh yeah, I guess it makes me smile. Credo che mi faccia, che questo mi faccia divertire. I found it hard, was hard to find. L'ho trovato difficile, era difficile, era difficile da trovare. Oh well, whatever, never mind. O bene, o comunque, qualsiasi cosa ci succeda, non importa. E quindi, questa è una canzone un po' di, diciamo, contro il sistema. Ma è una canzone contro, che va contro, appunto, perché parla di noia, parla di un po' di ispirazione, che spinge appunto questi ragazzi a fare delle cose insensate. E comunque a divertirsi facendo delle cose che non sarebbero fatte. Quindi, vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto il video. E iscrivetevi al canale Traduzione Canzoni Musica Spiegata. In questa canzone, che è la canzone Rock per Eccellenza, di Nirvana, con Smash, Light and Spirit. Per il momento è tutto, alla prossima, ciao. Grazie a tutti.